Bella raga, questo video è un po' più diverso dal solito ma devo dire che è stato veramente epico abbiamo completato l'evento di Terminator che sarebbe questo qua in pratica di vincere 4 partite nella nuova prova di titanio di Caldera rianimare la gente, vincere il Gulag e poi fare un'esecuzione che sarebbe una mossa finale è stato molto ma molto complicato vincere le 4 Caldera essendo che non gioco mai a Caldera ma come ben sapete gioco sempre a ritorno però devo dire che ne valsa veramente la pena per quanto riguarda la mimetica che è veramente bella che sarebbe questa qui di metallo liquido poi c'è questa qua di titanio cromato che fa abbastanza cagare in confronto all'altra però per chi non vincerà è un premio di consolazione questo insomma detto questo non vi lascio perdere altro tempo, buona visione a tutti e due penso che ce la facciamo a restare cazzo ma uno è gratis cazzo non ci credo ma non ci credo ma devi scattare non dovete preoccuparti devi scattare pur tu porca troia io c'ho l'M79 gli lancio una bomba grazie davanti, bravo oh Andrea ma sei usata a Milano tu? si, tessera dorata aveva ragazzi 400 dollari abbiamo lot out ragazzi c'è chi non l'ho giù c'è chi non l'ho giù mi ha sparato me vedeva per forza tanto che non l'ho vinto, non l'ho vinto si, si, si subito ecco guarda guarda di qua, di qua, di qua bravissimi vai, vai, finitelo ok team me ne è andato ragazzi qua, qua, qua si ragazzi io me ne voglio andato a sta zona non mi piace sento buzza di morte dove vuoi andare? a farmi che non c'è nessun posto allora niente no 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 Alex regale altro che è avanzata non lanciato a porto Jacks torna indietro fidati non è arriva un attimo un attimo no fidati zio vattene perché se ti cicchino in testa non possiamo arrestarti per forza guarda dove la safe eh si frate ho capito però dobbiamo stare qua fidati non allontanarti dalla squadra dobbiamo stare uniti e cercare di gamperarci il più possibile ragazzi in questa casa nemici qui vicino nella casa in questa casa si 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 c'è gente nella casa in cui eravamo hanno fatto il giro vissi? vissi laggiù? ragazzi siamo in 15 che colpi che colpi di servono che colpi di servono qualcuno con uno sopra di noi 20 altri aspetta 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 vengo contato vengo contato fatto io sto sul tetto voglio stare sul tetto oh c'è uno là cazzo regattetti cecchini porca droga bravissimi qua dietro qua dietro da me da me da me è scelto da voi è scelto da voi jackson copriti non ci credo ah ve la che paura che ho cercato da dietro mi chiesto l'ho rubata la kill eh sì invece ti capo devi devi curarti devi curarti subito smoke smoke copriti entra 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 veloce dobbiamo uscire di qua jackson adesso subito a prendere il tuo armi adesso vi sono davanti porca puttana godo no jackson matto lui ragazzi siamo porca puttana grazie davanti atterrato atterrato bravo siamo tre ragazzi ragazzi dove è la safe cazzo andrea la macchina andrea la macchina ma che macchina ma che macchina cosa puoi fare con la macchina dobbiamo avanzare dobbiamo avanzare io no andrea cazzo devo sapere dove va ha trovato dei soldi come merda raga vieni adesso adesso qua 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 ragazzi non hanno finito finito qua dietro le rocce che cazzo è coglione visto 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 merda raga ci dobbiamo muovere appunto qua 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 viene viene qua 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 aiuto aiuto me serve una mano cazzo dov'è è lì è sempre lì ok raga siamo in tre ci siamo in tre nel senso oh vai qualsiasi tolta uno vai ragazzi ragazzi è lì non scendiamo non scendiamo eh scendere da dietro ragazzi da dietro da dietro da dietro da dietro motoresso basta mi coprite smoke no 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 ragazzi perché conquistare forca puttana dove qua sopra forca di quello puttana se no si è morto si è morto vai vai si c'è lì c'è lì c'è lì e davanti c'è lì davanti smoke è one shot bellissimo ma 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 si 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 cazzo si si cazzo si cazzo missione terminata missione terminata missione terminata signori cazzo raga cazzo raga si cazzo bravi bravi ho fatto più roba ho fatto più che il di tutti incredibile mica oh ti avevo detto che fa schifo ha fatto vincere la partita non ci credo grandi raga missione terminata gg cazzo porca dove ho so perdere la voce come potete ben capire dalle urla è stata veramente una soddisfazione vincere queste quattro partite in realtà all'inizio non lo volevo neanche fare perché mi sembra troppo difficile ma ci ho provato e così non è stato fortunatamente ringrazio smoke e tk che mi hanno accompagnato in questa grandissima avventura hanno sbloccato la mimetica insieme a me e detto questo iscriviti al canale lasciate un bel commento condividete il video attivate la campanella per non parlare nessun aggiornamento del canale detto questo bella che è un'altra che c'è un'altra che c'è un'altra